Siracusa, palangaro con 230 ami scoperto nell'area marina protetta del Plemirio. Un palangaro attrezzato con 230 ami è stato trovato nel corso dell'attività di sorveglianza notturna nell'area marina protetta del Plemirio. La motovedetta MB CP 537 ha intercettato un segnale da pesca non regolamentare all'interno della zona B, precisamente nelle acque antistante, località punta dell'elefante. I militari procedevano al recupero dell'attrezzo da pesca ancorato al fondo che risultava essere un palangaro con 230 ami privo di elementi identificativi idonei a far risalire al proprietario riconducibile alla pesca sportiva o di frodo. L'attrezzo da pesca veniva sottoposto a sequestro e custodito nei locali della capdeneria di porto di Siracusa. All'interno della palangaro inoltre venivano ritrovati 10 esemplari di lupi in scoglio sottoposti a sequestro e conservati nelle celle frigorifere della capdeneria di porto di Siracusa per la successiva visita organolettica da parte di personale veterinario dipendente dall'aspito di Siracusa che sarà effettuata nei giorni a venire al fine di valutare l'idoneità del prodotto ittico al consumo umano e eventualmente la donazione in beneficenza a un istituto caritatevole a Retoseo. L'attività svolta si inguadra in un'ampia serie di costanti controlli ambientali e sulla filiera ittica post in essere dal personale della capdeneria di porto per garantire la salvaguardia dell'area merena protetta del premio da attività illecite non consentite.